Lo sciame sismico non si ferma in Marche e Lumbia. Una nuova forte scossa di terremoto del quarto grado della scala Richter è stata avvertita martedì alle 8.56 ad Ancona e Perugia e si è sentita anche in alcuni quartieri di Roma. Intanto lo sciame che la scorsa settimana ha devastato una parte dell'Italia centrale continua senza sosta. Martedì il presidente del Consiglio Renzi è stato in forma privata a Brecci, uno dei paesi colpiti dall'epicentro ha incontrato tantissima gente e ha fatto sapere che ci vorrà tempo. Non abbiamo la bacchetta magica ma faremo di tutto per portare con tenacia la condizione di ritrovarci tutti insieme e di ricostruire tutti insieme. Ci vorrà tempo. Intanto il presidente della Repubblica Mattarella ha anticipato il rientro da Israele e mercoledì si recherà nelle zone colpite dal terremoto. Intanto i sindaci delle zone colpite hanno fatto sapere che i cronomi stanno continuando e ci sono dei paesi rasi al suolo.